Alpi, da poco è finita una partita vera, maschia, forse quella che si cercava proprio per testare le condizioni della squadra. Come hai visto questa partita? Sì, sì, sicuramente un buon test. Dopo tanti mesi serve ritrovare la condizione. Queste gare sono importanti per prepararci in vista del campionato. Come ti senti dopo questa partita? Senti di aver già raggiunto un buon stato di forma? Sì, le sensazioni sono positive, soprattutto a livello tattico. Stiamo lavorando bene con il mistero e ci sarà da lavorare. Siamo ancora un po' indietro rispetto agli altri, siamo partiti tardi, però ci faremo trovare pronti al momento giusto. Un giudizio complessivo sul gioco di squadra, quello che tu hai appena giudicato poco fa. Leonardo, che è piaciuto in questa prima partita? Sì, penso che la cosa più importante adesso sia lavorare e capire cosa voglia il mistero. Credo che l'atteggiamento da parte di tutti sia giusto e buono. Ci stiamo mettendo a disposizione a cercare di mettere in atto le cose che vuole il mistero. Continueremo a lavorare di giorno in giorno per farci trovare pronti. Le tue percezioni dopo questi primi giorni di lavoro sull'ambiente, sulla società, sui compagni? No, le sensazioni sono molto positive, sia da parte della società che dello staff. Stiamo cercando di creare questa unione e di remare tutti alla stessa parte. Sappiamo di dover fare sacrifici perché ci aspetta un campionato tosto, però in una piazza soprattutto importante che morì da risultati positivi. Cercheremo di lavorare al 100% per far sì che questo possa accadere. Quali sono le tue aspettative in funzione del campionato? Non mi piace pormi obiettivi, mi piace pensare alla giornata, di lavorare e migliorare ogni giorno un alleamento. La domenica si gioca 11 contro 11, cercando sempre di la vittoria. Grazie Alessandro. Grazie a voi.